Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocese di Brescia. È stata inaugurata nei giorni scorsi dal Vescovo Luciano Monare la nuova Casa del Clero intitolata al Beato Musetto Vini. La vecchia palazzina dei professori del seminario accoglierà 30 sacerdoti diocesani. Lunedì 18 febbraio è stata ufficialmente inaugurata in Via Bollani 20 a Brescia la Casa del Clero Beato Monsignor Mosetto Vini. Lo scorso 28 dicembre il seminario aveva donato la storica palazzina dei professori alla Fondazione Opera Diocesana Carlo e Giulia Milani, l'ente giuridico che già gestiva la Casa del Clero di Via Lama. Oggi la struttura di Via Bollani ha preso il posto di quella di Via Lama, attiva dal 2008 al 2012. La fondazione è rappresentata dal Presidente Monsignor Gianfranco Mascher e dai consiglieri Monsignor Cesare Polvara e Don Antonio Lanzoni. Ci sono dei sacerdoti addetti al seminario, alla Coria Diocesana ed altre mansioni che hanno una casa e in questa casa possono vivere una vita comune, una certa forma di vita comunitaria, peraltro molto auspicata dal Concilio Vaticano II. In questa nuova realtà sostanzialmente si sono utilizzati ambienti già esistenti, la cosiddetta palazzina dei professori del seminario. Dopo che il seminario si è trasferito in Via delle Razziche, questa casa sostanzialmente è stata adibita, passata dal seminario all'Opera Milani, è stata adibita appunto all'ospitalità dei sacerdoti. La casa può accogliere 30 persone. Oggi sono accolti una decina di sacerdoti insegnanti del seminario, i responsabili degli uffici di curia e i sacerdoti, che pur avendo un incarico pastorale in città, non hanno una canonica dove abitare.